Vito non la migliore Italia, comunque un risultato positivo, portiamo a casa una vittoria nella prima amichevole contro il Belgio Sì, sicuramente potremmo far di più, abbiamo sbagliato un po' tanto, c'è un attacco di difesa, però la strada è quella giusta Stiamo lavorando bene, tutti abbiamo l'unico obiettivo di crescere, questa è la nostra parola toglie Anch'io sono qui a dare il mio contributo, soprattutto con i giovani, i portieri, Maio lo stesso Dobbiamo, deve essere un mix, giovani e vecchietti, tutti dritti verso l'unico obiettivo, la crescita Dicevi buone risposte, sia naturalmente da voi veterani, ma anche Stabellini, più giovani hanno... Sì, 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 anche loro hanno sposato appena questo progetto e sono ragazzi validissimi Veramente dei talenti che non possiamo non far crescere, per dare loro la possibilità di crescere Noi con la nostra esperienza, la federazione sta facendo il massimo per questo e speriamo bene Domani si replica, loro non vogliono perdere di nuovo Noi domani dobbiamo far meglio di oggi, questo è poco ma sicuro Soprattutto dal punto di vista del gioco, io sono molto fiducioso perché, ripeto, stiamo lavorando tanto e bene E non può non esserci questa crescita Grazie